Vendevano mozzarella di bufale e pesce, ma era soltanto una copertura per lo spaccio di droga, in particolare cocaina e marijuana, che fruttava all'incirca 20.000 euro al mese. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieti hanno eseguito otto misure cautelari. Tre persone sono finite in carcere, Mattia Cipressi e Domenico Fontanarosa, entrambi di 27 anni, e Massimo Soprano di 29 anni. Questi ultimi due già coinvolti in un'altra inchiesta dei carabinieri di Chieti relativa alle rapine della banda del monovolume. Ai domiciliari invece sono finiti Roberto Di Felice, Renato Caratella e Viviana Rosano, mentre altre due persone avranno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati contestati a vario titolo sono detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e distorsione. Come è nata questa indagine? Da un'attività su strada, nel corso della quale è stato effettuato un arresto in fragranza di un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente. Oltre alla sostanza stupefacente è stato rinvenuto anche del materiale, quali appunti e scritture, dalle quali è stato possibile desumere che vi fosse un'ulteriore attività di vendita da parte dei soggetti coinvolti. In particolare poi è stato ricostruito l'escamotaggio attraverso il quale veniva simulata l'attività di vendita, che era appunto la vendita abusiva di latticini, di mozzarella e di bufala per la strada. In un caso chi non ha pagato, tra l'altro uno degli arrestati, è stato anche vittima di estorsione. Sì, perché la vendita di primo livello ad uno dei soggetti, poi a sua volta colpito dall'ordine di custodia cautelare, poiché è responsabile a sua volta di spaccio, non avendo onorato il debito sottoscritto, avendo acquistato sostanza stupefacente, è stato più volte vittima di pressioni da parte del soggetto venditore, fino ad arrivare a subire minacce definite che riescono a configurare il reato di estorsione. Nel corso delle indagini, denominata la bufala, sono stati sequestrati 500 grammi di cocaina e segnalate all'autorità giudiziaria altre 17 persone come gestori della droga e 25 come assuntori di stupefacente.